A 13 anni ero troppo timida e arrostivo per una nulla. A 16 anni iniziai a tingermi i capelli di un biondo sempre più tendente al platino, pensando così di riscuotere più successo in tutti i campi, tenendo invece solamente le urla del nonno che mi dava della bagascia. A 20 anni all'università imparai come atteggiarsi a intellettuale, letterata, pseudostoica, dendi misantropa. Faceva tutto brodo. A 23 finalmente ho imparato che aspetto, bellezza e mente in realtà vanno a braccetto e che se esci a modularle e ad affinare le tue armi, hai capito tutto. E allora io adesso pretendo che qualcuno mi spieghi perché su Facebook ci scrive sempre quello di cui non ce ne frega una mazza e quello che ti interessa non ti scrive mai.